Musica Cari iscritti benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft molto elegante a quanto pare dai Minecraft allora abbiamo ripreso il video con un bel con una bellissima alba insomma è quasi giorno ok allora ci sono stati un po' di cambiamenti e sì ho l'inventario pieno perché ho trovato moltissime torri della Ars Magica 2 mi pare ho trovato un meteorite e mi sono craftato il piccone di meteorite che ha magnetizzazione infatti guardate io butto la roba mi prendo il piccone in mano mi ritorna subito perché magnetizzazione attira gli oggetti allora mentre torniamo a casa mi volevo scusare se in questi giorni non vi ho caricato alcuni video erano mi pare giovedì e venerdì non ho caricato il video e questo è un video speciale non so neanche dove sto andando quindi perfetto questo è un video speciale dedicato ai miei nuovi iscritti che per me che sono nuovo su youtube o almeno che sono cioè che ho il mio primo canale non so come spiegarmi in pratica sono molto felice ma veramente tanto infatti volevo ringraziarvi per come ho già detto i nuovi iscritti e per tutte le visualizzazioni che state dando i like e i commenti scusate un attimo devo vedere una cosa ok eccomi tornato stavo un attimo vedendo le impostazioni salta 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 minecraft mi volevo qualcosa che cazzo che è ma è una roba che mi gira intorno che c'è il mio fuori il mondo mi metto la spada anche se stiamo qui se mi vuoi saltare minecraft grazie è stato molto gentile a saltare io a casa non ci torno 800 blocchi direi che metto in pausa il video ci vediamo quando sono a casa perché in questa puntata abbiamo un bel po' da fare quindi ci vediamo dopo quando sarò ok eccomi a casa e si stavo cercando una cosa il backpack non so se l'ho installato si ok non si fa non si fa non si fa si ma se sto lì dentro non mi faccio mai sicuro basta finisci là di rompere ah col ferro un ferro dov'è quella cosa ok ok c'è un po' di spazio in queste ceste certo che c'è perché ok 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 da riuscire a postare la proposta questo cos'è l'impianto di base e questo lo ordiniamo, lo ordiniamo, lo ordiniamo grazie 1, 2, 3, 4, 5, 8 perfetto ok, se lascio anche questa non posso fare niente ok, servo spero che serva qualcosa oh un po' di spazio in più voglio sapere come si fa questo per forza ancora il modo vabbè io qui dentro direi di metterci tutta la roba dell'ass magico non so se si può rinominare no sopra il passo ok, perfetto questo è dell'ass magico vi farò di sicuro altri quindi dell'ass magico c'è anche questo, 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 questo e questo e questo e questo quindi le metterci tutto dentro tutto io non ho ancora capito perché agli altri youtuber quando giocano tipo a minecraft per questo lag non glielo dà lo dà soltanto a me oh oh cavolo qui si che c'è lavoro ok con fortuna che ho diciamo un secondo inventario allora se vi ricordate la vecchia il vecchio mondo vi ricorderete anche che ci eravamo premati con la cosa con praticamente dovevamo fare l'estrattore poi non va più fatto ovviamente cioè ancora sto facendo tutto un trasloco ma sta finito sto un zaino pieno ok non lo so troppo eh si c'è tanta roba purtroppo allora vi volevo dire che questo qui è un video speciale un video speciale dedicato ai nuovi iscritti al mio grande che ora ok minecraft mi sa che tu non oggi non ti senta bene di sicuro non ti senti mai bene ecco questo è il problema ok adesso devo viaggiare e l'altra parte del mondo si il death point sto facendo una provando una cosa e che viene il rumore stavo provando una cosa e ho dovuto e sono morto alla fine ok ok destinazione giungla allora vi stavo dicendo mentre cammino adesso che questo qui è il video speciale dedicato ai nuovi iscritti questa qui è la terza volta che lo dico mi sa che ci sarà anche una quarta volta non è vero è un video di mezz'ora 30 minuti che dividerò in due parti perché sennò ci metto una cifra a realizzarlo alcuni di voi mi avete chiesto nei commenti no nei commenti scusate in messaggi privati tramite quelli se potevo essere un po' più attivo perché sennò sempre moscio così sempre moscio io gli ho detto va bene però se non c'è niente da fare come in questi episodi che devo fare avanti e indietro tra casa e giungla casa e giungla per per trasferirmi non è colpa mia ecco questa è piena questa ok tatata ah volevo credervi che anche se io sono grandissimo appassionato di minecraft quindi queste cose le dovrei sapere se voi sapete se qualcuno di voi sa come si fa a trasferire i misori sempre guardate questo in questo modo e prendiamo lo zaino no la cassa lo zaino ad esempio tutto l'inventario di questo backpacker nel mio tipo control più shift no no voglio pure alt più shift wow ho scoperto che premendo alt shift la stessa funzione è quella di shift perfetto scusate vediamo se potete sapere come sempre se la serie mi sta piacendo scusate ancora se in questi video sono moshi ma non è colpa mia è colpa appunto scusate un attimo sto cercando di dare la colpa a qualcos'altro quando la colpa è tutta mia vabbè è che sono un po' moscio sono appena cioè sto ancora ai miei primi video mi devo ancora ambientare con voi a proposito di ambientarsi scrivetemi qualche commenti che me ne arrivano pochi se no mi sento solo e dopo inizio a non fare più video ah ecco uffa le ceste piene ecco appunto no qui c'è una di cassa ok ah come potete vedere ho finalmente messo i muri ehm sperando che si sentano poi se non si sentano farò un altro video se sentite la mia voce in questo momento significa che funziona tutto correttamente però ho tolto la musica purtroppo che è una delle cose più belle ah vero non posso mai parlare di un'altra pad che penna più blocca minecraft le sue leggi oddio sono spaventate ok mettiamo un'altra cesta qua un'altra a fianco andiamo e ci butto dentro questo 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 basta adesso torniamo a casa allora ritorniamo a casa io spero di fare tutto oggi in questa puntata che mi terrà sicuramente a metà perchè non posso capitare il video superiore a 15 minuti ehm 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 niente di che potremmo parlare ehm no vi volevo fare un discorsetto discorsetto e così sempre tipo un professore molto cattivo sì allora tu ehm terzo iscritto barra iscritta ehm quanto fa 3 più 3 un creeper brava risposta è santa no perchè ci sono alcuni ah dai ci sono un po' più divertente basta allora parliamo del mio minecraft allora minecraft come ti senti a a giocare e ad essere esposto a youtube come non sapevi di essere su youtube e allora certo che sei proprio cretino tu vuoi salutare tua madre salutala chi si chiama? no scusa no il fai